Oggi vediamo alcuni verbi regolari del presente indicativo e più precisamente i verbi stare, avere, fare, dare, sapere e andare. Li studiamo assieme perché sono tutti verbi irregolari ma hanno delle cose simili per cui se li impariamo confrontandoli e ragionando su come si comportano questi verbi ci sarà più facile ricordarli. Allora iniziamo a vedere il primo verbo che di questo gruppo forse è il primo verbo che si impara, il verbo stare. Io sto, tu stai, lui sta, noi stiamo, voi state e loro stanno. Io finisce sempre no come fanno tutti i verbi al presente indicativo. Tu qui non finisce in i ma finisce in ai, lui lei finisce in a, noi stiamo, vediamo che la terminazione qui è normale come nei verbi regolari, voi state, se vi ricordate il trucco che abbiamo imparato con i verbi regolari, se io dall'infinito sostituisco la r di stare con la t ottengo il voi, ok? Stare, state e loro stanno con due n mentre nel presente indicativo regolare avremo solo una n. Caratteristiche di questo gruppo di verbi sono le prime tre terminazioni o, hai, ha e l'ultima anno. Vi potete ricordare anche, come trucco mnemonico, che tutte le volte che un verbo fa hai al tu, farà hanno con due n al loro. Sapendo questo, prova adesso a scrivere la coniugazione del presente indicativo del verbo avere. Metti in pausa il video, prendi carta e penna, scrivi le terminazioni e poi controlla. Ed eccolo qui. O, hai, ha, abbiamo, avete, hanno. Avrai notato sicuramente che abbiamo una H nelle prime tre persone e nell'ultima persona, ma il noi e il voi non iniziano con l'H. L'italiano a un certo momento ha eliminato tutte le H inutili e io considero che è una scelta che dovrebbero fare molte altre lingue che hanno H lì in giro e non hanno senso, ok? Ha mantenuto le H solo e all'inizio di o, hai, ha, hanno, per evitare malintesi. Infatti, o potrebbe essere anche io o Mario, vediamo la festa. Hai, vedrete poi che è la preposizione articolata formata dalla preposizione a e dall'articolo i. A, per esempio, io vivo a Roma e hanno, l'hanno fatto da 365 giorni, ok? Con abbiamo e con avete invece non c'è il rischio di confondersi per cui non è necessario mettere la H. Che altro possiamo dire di questo verbo? Vedete che anche se è un verbo in ere, la terza persona è in A, perché come abbiamo detto prima, la terza persona di questo gruppo di verbi finisce sempre in A. Non possiamo dire lo stesso del voi, infatti, non è ate come in state, ma è ete, perché è un verbo in ere. Quindi il voi, diciamo, rimane in qualche modo regolare. Fate attenzione anche che il noi, per misteriose ragioni, sostituisce la V di avere con due B. Prova adesso a scrivere il verbo fare. Metti in pausa il video, scrivi le terminazioni e poi controlla. Ed ecco qui il verbo fare. Io faccio, tu fai, lui fa, noi facciamo, voi fate e loro fanno. Vedete che le terminazioni delle prime tre persone sono uguali. Facciamo, finisce Niamo, fate e regolare e fanno a questa doppia N che caratterizza questo gruppo di verbi. Sul fatto che la prima persona singolare, io e la prima persona plurale, noi, abbiano questa doppia C, per adesso ce lo impariamo così. Poi vedremo che fare fa anche parte di un altro gruppo di verbi. E quando farò quel video ti spiegherò perché c'è questa doppia C. Per adesso lo impariamo così. Proviamo adesso a scrivere un verbo molto facile, che è il verbo dare. Metti in pausa il video, scrivi le terminazioni e poi controlla. Ed eccolo qui il verbo dare. Io do, tu dai, lui dà, noi diamo, voi date, loro danno. Normalissimo, facilissimo. L'unica cosa da ricordare è che la terza persona singolare, lui, lei, ha un accento sulla A. Se si dimentica non è un errore gravissimo perché io credo che il 50% degli italiani si dimenticano di mettere questo accento, purtroppo. Ok? Vediamo il seguente verbo. Il seguente verbo è il verbo sapere. Anche qui metti in pausa al video, prova a scrivere le terminazioni e poi controlla. Ed eccolo qui. Io so, tu sai, lui sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Da dire che in questo verbo il noi raddoppia la P. Ma se noi vediamo gli altri verbi, vediamo che avere cambia la V per una doppia B, fare ha una doppia C e sapere ha una doppia P. Quindi ci può aiutare ricordare che il verbo avere, il verbo fare, il verbo sapere raddoppiano tutti la P al noi, al presente indicativo. Vediamo il prossimo verbo. Il prossimo verbo sarà il verbo andare. Metti in pausa il video, scrivi le terminazioni e poi controlla. Questo verbo è un po' diverso dagli altri, per questo l'ho messo, diciamo, a parte. Abbiamo messo accanto il verbo stare per ricordarci quali erano le terminazioni di questo gruppo di verbi. Vediamolo un attimino. Io vado, tu vai, lui va, noi andiamo, voi andate e loro vanno. Innanzitutto abbiamo le prime tre persone e l'ultima persona, che non partono da AND, ma partono da V. Se la tua lingua materna è lo spagnolo o se tu parli anche spagnolo, vedrai che in spagnolo c'è un verbo che ha questo significato, che è il verbo IR, e che fa lo stesso. Fa io voi, tu va, se il va. Ok, quindi, no, io non ho mai studiato etimologia, ma lì ci deve essere qualcosa dietro, ok? Comunque, insomma, da ricordarsi che le prime tre persone e l'ultima persona cambiano. Questo vedremo poi in altri irregolari, che è un'irregolarità abbastanza costante. Infatti, vediamo che noi e voi sono regolari, irregolarissimi. Andare, andiamo, andate. Perfetto, ok? Le terminazioni di questo verbo sono uguali a quelle di stare. Io vado, tu vai, lui va, quindi abbiamo ho, hai, ha. E visto che al tu abbiamo hai, sappiamo che al loro avremo due n e il loro sarà van.